Che cosa direbbe il tuo capello? Io sono qui con te, proprio sul suo letto. Ma deve ancora venire. Molto pericoloso. Che tragico incidente, il poliziotto è distrutta sul letto menziale. Pensare che il capo ci credeva, sei stata molto brava a fingere. Prima ammazzi mattina, io adesso te lo prendi con la tua donna. La poliziotta, il bello Andrei, un colpo solo, oggi è il mio giorno fortunato. Alta le mani, figlio di puttana! Non spadare. È pieno di benzina, saltiamo in aria tutti quanti. Stai detto! Io e te abbiamo un colto da regolare. E questo da parte di Mattia. Tu non sei un assassino. Se Mattia fosse qui, te la chiederebbe lui.